Iniziamo dalle notizie che riguardano il signor Savoini. Sulla base delle informazioni disponibili alla Presidenza del Consiglio posso precisare che il signor Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali in qualità di consulento esperto per componenti di questo Governo. Il medesimo risulta tuttavia presente in una missione ufficiale a Mosca, avvenuta nei giorni 15 e 16 luglio 2018, a seguito del Ministro degli Interni e Vicepresidente Salvini, come più specificamente chiarirò nel proseguo.